Eccoci, eccoci a te le buzzicone, puntata numero one. Allora, prima cosa, atteniamoci, ecco qui, in onda, in onda, siamo in onda, siate sintonizzati perché vi presento l'uccello buzzicone. Eccolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Benvenuti in sintonia, che tutti i virus caccia via. Benvenuti. E l'uccello Buzzicone è felice di questa piccola trasmissione. E l'uccello Buzzicone è felice. E l'uccello Buzzicone è felice. E' finita questa puntata. E io vi auguro che vi faccia sorridere e vi faccia sentire leggeri, leggeri, come un uccello Buzzicone. E l'unica legge che legge è la leggerezza. E l'uccello Buzzicone è felice. Grazie a tutti.